rieccomi qui carissimi telespettatori di tv 6 bentornati all'appuntamento col meteo siamo alle prese con un nuovo ciclone attualmente situato sui valcani dove sta causando nuvi fragi inondazioni quindi piogge alluvionali questo ciclone nelle prossime ore farà marcia indietro tornerà nel mediterraneo e darà vita a un'altra seconda depressione sul martirreno che comporterà piogge e nuvi fragi su tante località del centro sud italia per quanto riguarda questo martedì tempo molto instabile perturbato in abruzzo soprattutto nella seconda metà della giornata quindi tra pomeriggio e sera mi aspetto l'arrivo di vasta nuvolosità piogge via via sempre più diffuse e sempre più forti anche con qualche forte temporale poi l'apice del maltempo atteso tra mercoledì e giovedì quindi ci sarà un moderato rischio di pioggia carattere di nubi fragio la temperatura non subirà grandi variazioni massime con grande difficoltà attorno ai 22 23 gradi delle massime con questo concluso ci rivediamo nel prossimo aggiornamento